Tutto Foppa, speciale mercato, in studio Roberto Baldelli Buonasera, io volevo parlare un po' di mercato di Palavolo Visto che è da due settimane che il mercato di Palavolo è aperto in tutte le società Ecco, io ne dico qualcuno Scandici sta facendo una bella squadra In arrivo da Casal Maggiore Labosetti Hanno un nuovo allenatore, Carlo Parisi Poi altre news che vi do Novara che se dovrebbe vincere il campionato Labarone smette di giocare Mentre Busto Il 90% va alla Gennari Ma non è ancora ufficiale Beltrami è un nuovo allenatore della Lardini Filottrano Che arriva a Bergamo come allenatore Il 90% allenatore di Modena Gaspari Perché le voci sentite di su Lavarini Che Lavarini va a Pisaro Poi altre news che la Righetti va via da Scandici Ecco, sappiamo che Bergamo non si è fatta sentire nel mercato di Palavolo Io so che la Partenio e la Popovich hanno un contratto triennale fino all'anno prossimo Sappiamo che Bergamo Avrà i suoi sponsor Agis Goccioli Lui banca col punto di domanda Terminas col punto di domanda E gli altri non si sanno ancora Noi speriamo di fare la squadra ancora No, non si sa ancora niente Tutti i zitti stanno Io non ho altro da aggiungere Vi auguro tutti Una buona continuazione da parte mia E a sentici tra nei prossimi giorni Per altre news di mercato di Palavolo Buona continuazione